Ciao a tutti qui dall'Accademia del Fantacalcio, sono Abel Alves e in questo video ti darò i 10 passi migliori che puoi fare per prendere gli attaccanti per la tua rosa di Fantacalcio. Quindi questi consigli qua sono fondamentali perché se vuoi prendere ottimi giocatori, se vuoi azzeccare l'asta giusta, devi seguire questi 10 passi che sono anche molto semplici, quindi mi raccomando rimani qui con noi. Il primo passo che devi fare, o meglio che non devi fare, è quello di puntare solo a top player in attacco. Lo so, lo so che avere un centroavanti forte è importantissimo, so anche che devi avere giocatori che segnano almeno 15 gol, 10 gol, 20 gol alla stagione da abbinare insieme, quindi tra il tuo migliore e tra virgolette il tuo peggiore che segnerà 10 gol, 8 gol, con il migliore che ti segnerà 25 gol. Ma è impossibile pensare di suddividere il budget cercando di prendere, faccio questo esempio, 3 giocatori che segnano 25 gol in una stagione. Cosa significa questo? Che, beh, tanto non riuscirai a prendere tutte e 3 perché la concorrenza sarà fortissima, costeranno un bel po' di soldi e quindi sputtanerai tutti i soldi adesso subito sull'attacco, e invece la difesa, il centrocampo, li avrai di giocatori veramente scarsi e quindi la cosa principale nel fattacalcio è avere una squadra bilanciata e se tu punti subito tutto sull'attacco o lasci aspetti solo per puntare sull'attacco, avrai una squadra mediocre e molto diciamo sbilanciata verso comunque l'attacco stesso ma che non ti porterà niente perché poi molte volte prendi quel top player che poi si infortuna. Quindi è importante avere sia ottimi top player, quindi puntare almeno su 1-2 top player in attacco, ma anche puntare su altre tipologie di giocatori che vi dirò tra poco, ok? Importante questo. Collegandoci con quello che ho detto prima, quindi il passo numero 2 è quello di abbinare un top player 1 massimo, 2, ad un provinciale, un bomber di provincia, ok? Ti costerà molto meno, in molti casi potrai giocare quel calendario e quando il tuo top player è infortunato oppure giocherà in una gara difficile dove c'è una difesa, la migliore difesa del campionato, facciamo questo esempio qui, avrai il bellissimo provinciale che ti giocherà, che ti darà quel sostegno continuo, diciamo per tutta la stagione, che ti darà quei minimo 8, massimo mettiamo caso 20 gol, ma che fanno la differenza. Perché se metti insieme un top player e un provinciale del genere, puoi arrivare benissimo a segnare solo con questi due giocatori su una quarantina di gol che ti possono aiutare a vincere la Lega stessa. Quindi è importante non spendere subito tutto sui top player in attacco, non averne tanti, cercare di averne tanti, perché significa che la tua squadra sarà molto sbilanciata, ma devi abbinare 1-2 top player a un bellissimo, grandissimo provinciale, come è stato l'esempio migliore di questi ultimi anni, è stato anche Quagliarella che ha giocato molto bene, adesso anche con la Samp, dire alla Samp che sia una provinciale, chiaramente fosse un po' azzardata ormai, perché la Samp è anche storica, ha vinto lo Scudetto varie volte, quindi... Però, ecco, da abbinare, mi raccomando, queste tipologie di giocatori qua. E il terzo passo che devi fare è quello di prendere una scommessa, un calciatore, che è appena arrivato dalla Serie B, da un altro campionato, di un altro paese, non so, dalla Polonia, come è arrivato Piotek, insomma, Sanabria, che poi è arrivato dopo, subito di lui, non ha fatto benissimo, però, ecco, per farvi capire, che sono giocatori che possono cambiarti la stagione, perché il top player, è vero, è quasi, diciamo, tra virgolette una sicurezza, perché si può far male, può essere la stagione sbagliata, o così via. Il provinciale è lo stesso, però chiaramente hanno esperienze, sono fortissimi, ma la scommessa ti può dare anche quello sprint in più, perché nel fattacalcio serve anche essere un bravo scout, un bravo scout di giocatori, e a prendere la scommessa giusta, il giocatore, diciamo, l'underdog di turno, ti può far vincere proprio il campionato, può essere proprio lui a farti vincere. Infatti l'esempio migliore è stato quello l'anno scorso, ricordate di Piotek, io l'ho presa uno, e poi mi ha reso in maniera straordinaria, come anche Pacchettà, che nessuno ci credeva, pochi ci credevano. Quindi, mi raccomando, anche queste cose, cioè, abbinare quindi il top player al provinciale, e anche alla scommessa in attacco. Cioè l'attacco deve essere fornito e colorato da queste voci qua. Il quarto passo è quello di non cadere nelle trappole mediatiche. Mi raccomando, perché quando andiamo a vedere se riusciamo a trovare quella scommessa, quel giocatore, diciamo, come vi dicevo prima, che viene da fuori, caschiamo purtroppo in queste trappole mediatiche. Cosa sono? Quali sono queste trappole mediatiche? Sono tutti quei rumors, tutti i giornalisti che esaltano questi giocatori che giocano nelle amichevoli prestagionali, ok? Oppure che hanno fatto molto bene all'estero, ma che sappiamo benissimo che nel campionato italiano l'impatto del gioco è importante, ed è difficile, ecco, uno si deve anche abituare a come si gioca in Italia. Le difese sono le più forti d'Europa, in Italia. Quindi i calciatori, quando vengono a giocare in Italia, principalmente gli attaccanti, fanno fatica. Quindi, quando vedi, che ne so, che anche un giocatore di una delle big, che segna, non so, 5 gol in una partita, 4 gol, appena arrivato dall'estero, oppure venne dalla Serie B, eccetera, stai attento, perché quelle partite sono amichevoli. E poi molti iniziano ad esaltare, anche i tuoi amici al bar, ah, ho visto quello che ha fatto 5 gol, ha fatto 10 gol, ha fatto quello e quell'altro. State attenti a questo, ricordatevi, non lo so, un certo Gabigol, ricordate dei giocatori che hanno fatto durante l'amichevoli chissà che cosa, hanno fatto vedere scintille, oppure non hanno giocato in amichevoli, ma venivano, che ne so, come Gabigol, come altre, dai campionati comunque interessanti, come quello argentino, quello brasiliano, e poi in Italia, purtroppo, hanno fatto quello che hanno fatto, insomma, cagare. Il quinto passo che devi fare è quello di capire che devi portare alla tua asta la tua lista principale dei giocatori, ma anche un piano B. Il piano B. Perché? Perché nel caso in cui, facciamo questo esempio, sulla tua lista hai 5 attaccanti o 6 attaccanti nella tua lista principale, ma riesci a prendere solo 2 o 3, diciamo che non sei stato bravo, può capitare, a me capita a tutti, non è che siamo adesso perfetti tutti, no? Devi avere anche il tuo piano B, cioè i giocatori che possono sostituire quelli sulla tua lista principale, perché se non porti, diciamo, la tua lista B, se non prendi i giocatori che vuoi, rimane spaesato, non sai cosa fare, dici, adesso cosa faccio, dove vado? Beh, hai la tua lista B, la fai con tranquillità e la porti insieme a quella A, ok? Fai 5-5, 10-10, poi dipende da appunto da quanti giocatori puoi prendere, da quanti slot avete, eccetera. Quindi mi raccomando, fai anche la lista B, non andare soltanto con quei 5-6 nomi e basta, portane tanti altri che possono sostituire il giocatore della lista A. Per esempio, il top player, lo prendo questo, metti in caso che non c'è più quello, metterai nell'altra lista un altro top player, come il provinciale, come la scommessa e così via, ok? Sesto passo, mai, mai e poi mai, apri bocca, cosa significa? Mai e mai e poi mai, parlare prima, raccontare ai tuoi avversari, ai tuoi fantallenatori avversari, ai tuoi amici avversari, chi prenderai. So che può essere una sposa scontata, ma l'ho detto anche nel video sulla difesa, perché dai, qualcuno lo fa ancora, cioè racconta agli avversari, anche se sono amici di infanzia, non me ne frega niente, non devi raccontare chi prenderai, quali sono i giocatori che pensi che, almeno con sincerità puoi fare anche un blef, puoi fare anche queste cose qua, però non raccontare mai chi prenderai, tappati la bocca prima dell'asta, ecco vai lì con serenità, concentrato, ma non apri bocca sulla tua lista. Il settimo passo qui, per l'attacco, è non risparmiare, non essere tirchio, ok? Perché l'attacco, beh, devi prendere i giocatori giusti, devi spendere quello che serve per prendere il giocatore, è chiaro, dovrai comunque suddividere il tuo budget, ok, avrai 500-250 milioni da suddividere, benissimo, però, in questo reparto qua, non devi risparmiare, perché è il reparto che ti può fare la differenza, c'è l'attacco, ti fa vincere il campionato, ti fa vincere la Lega, quindi non puoi risparmiare sull'attacco, ma somali risparmierai su altre, altre ruole, altre reparti, anche se, secondo me, risparmiare veramente, non devi fare male nel fattacalcio, ma devi spendere soldi giusti, al momento giusto, al momento più propizio, quindi, mi raccomando, non essere tirchio, se tu sei tirchio, diciamo di natura, e non compri quei regalini alla tua ragazza, sono affari tuoi, nel fattacalcio, ecco, lì devi spendere tutto, devi investire nel modo giusto. Il prossimo passo è, prendi un giocatore ipermotivato, quali sono i giocatori ipermotivati? Sono quelli che, per esempio, sono stati infortunati, la stagione scorsa, chiaramente, devi stare attento, perché se sei stato infortunato, ci può ricadere, ok, però è uno di quei giocatori, che sicuramente, in questa stagione, la vuol fare molto, ma molto meglio, non vuol essere più infortunato, vuol giocare, vuol segnare, vuol far bene, in molti casi, deve riconquistare, la maglia della nazionale, deve riconquistare, diciamo, la titolarità in campo, ecco, deve andare sulle gerarchie, della squadra, andare su, e quindi, i giocatori ipermotivati, sono quelli che, in questo momento, non vedono l'ora, di entrare in campo, e, mangiarselo proprio, crudo così, crudo e senza olio, sono quelli che devono entrare in campo, e devono vincere, sono quelli che, in molti casi, sono stati anche allontanati, da certe squadre, che sono stati scaricati, e che in questo momento, vogliono dimostrare, che sono ancora capaci, diciamo, sorprendere tutti, ok, quindi, mi raccomando, uno di questi scommessi, di questi top player, di queste provinciali, devono essere anche, ipermotivati, il penultimo passo, che devi fare, passio, il penultimo passo, non passio, è quello di prendere, un giocatore, che nessuno punta, cosa succede, che a volte, è meglio stare zitto, cioè, non dire niente, quando escono i nomi, fai fare agli altri l'asta, cioè, nel senso, che se hai la possibilità, di fare, giustamente faccia a faccia, con la buste chiuse, o davanti a un pc, ma lo fai faccia a faccia, puoi fare anche davanti al pc, davanti a skype, quello che è, aspetta il momento giusto, per puntare, perché molte volte, hai anche un giocatore in lista, non lo chiamare subito, fai fare in modo, che gli altri, si scatenano, che investono subito i soldi, che spendono tutti i soldi che hanno, e arrivi a te, al momento giusto, tac, Muriel, cioè, capito, tiri fuori il giocatore, che ormai, tutti avranno preso, tutti i giocatori, ecco, quasi tutti gli attaccanti, hanno già riempito le slot, capita spesso, non pensare che sia un miracolo, cioè, molte volte, ci sono dei nomi, che vengono dimenticati, o che nessuno, in quel momento specifico, prima, lo voleva, perché pensava ad altri, o nella sua lista, non aveva scritto, e lo puoi prendere a uno, lo puoi prendere a pochissimo, perché rimanesti lì alla fine, e sarai te contro un altro, soltanto, o altri due, Massimo, a diciamo, adastare col giocatore, oppure, tutti gli altri, sono pieni di giocatori, anzi, non sanno cosa fare, con questi giocatori qua, e quindi, se sei solo te, che ti manca una slot, da riempire, allora lo prenderete a uno, c'hai capito? Quindi molte volte, è importante, anche a sapere aspettare, il momento giusto, cioè non andare lì con l'ansia, adesso punto subito, perché dopo me lo rubo, non me lo ciulano, no, aspetta il momento giusto, per puntare sempre, cioè, molte volte, ti capito proprio, che i migliori giocatori, che prendi, li prendi alla fine, quando nessuno, li pensava, nessuno, si sono dimenticati, ok? e l'ultimo passo, è quello, di non prendere, i giocatori che hanno molti infortuni, ci sono giocatori, che spesso sono infortunati, che tutte le stagioni, si infortunano sempre, si riescono a fare, quei 15 gol, va bene, in molti casi, in altri casi, purtroppo no, però, almeno 3-4 mesi a stagione, sono fuori, questi giocatori qua, nel fatto caso, serve continuità, ok? serve continuità, se tu prendi questi giocatori qua, non potrai sommare i bonus, che ti servono, quindi, non li prendere, cioè, se uno si fa sempre male, se uno comunque, viene sempre munito, viene sempre buttato fuori dal campo, lascia stare, non lo prendere, perché ci sono tante altre alternative, migliori, quindi, bene, se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, seguici, perché ci saranno tantissimi altri video, con altri consigli, adesso faremo anche, quello di scegliere, qual è la migliore strategia, per scegliere i centrocapisti, faremo anche questo, e faremo tantissime altre cose, parleremo di AmarCord, un po' della storia del calcio, e di tante altre cose, quindi, mi raccomando, iscriviti al canale, lasciaci un like, e commenta qui sotto, lasciaci le tuoi parere, una tua idea, e se hai bisogno di domande, di risposte, scusate, fate la vostra domanda, che vi risponderemo, ok? Alla prossima, un abbraccio qui, dall'Accademia del Statacato, ciao!